Sono Stefano Bartolini, economista, insegno all'Università di Siena, mi sono occupato negli ultimi 15 anni di felicità. Misure della felicità che ci dicono che la gente sorprendentemente nei paesi ricchi non sta molto bene e ci dicono anche perché se volete sapere che cos'è che rende la gente felice secondo gli studi sulla felicità, vi bastano due parole, gli altri. La felicità dipende dalla qualità delle relazioni tra le persone e questa è andata peggiorando attraverso i decenni. Il motivo è che abbiamo costruito un'organizzazione economica e sociale che non è fatta per avere buone relazioni e la parola d'ordine per il nostro futuro è cambiamola, perché adesso lo sappiamo. I studi sulla felicità sono una rivoluzione perché finalmente possiamo sapere con un metodo scientifico che cos'è che ci rende felici, un tema che ha sempre interessato gli esseri umani e adesso ci dice anche come dobbiamo cambiare la società e l'economia per rendere la gente più felice.